Jean-Claude Juncker è l'ex presidente della Commissione europea. Amato e odiato, certamente controverso, ha ammesso di come sia stato un errore non interferire nel referendum britannico sulla Brexit, da cui tutto è cominciato oltre tre anni e mezzo fa. Juncker, ai nostri microfoni, aggiunge però che non aveva la possibilità di cambiare il risultato della consultazione. Ho detto a Cameron e a tutti gli altri che se organizzaste un referendum su di una questione così controversa perdereste. Non vi sorprendete se alla fine, dopo tante bugie ed approssimazioni su che cosa sia realmente l'Unione europea, alla fine la gente voti contro. Molti paesi potrebbero pensare di uscire. Questo no. Ho buone e profonde relazioni con i governi di molti paesi e non esiste uno che voglia uscire dall'Unione europea, perché si sono resi conto di quanto è accaduto nei negoziati con Londra e che prezzo ogni paese deve pagare per uscire. Ma Bruxelles non potrebbe pensare a punire Londra per dare una dimostrazione agli altri paesi? Azzarda la nostra giornalista. Sono contrario ai metodi punitivi perché non portano a nulla. Quale paese potrebbe adesso svolgere un ruolo divisivo dentro l'Unione? Ce ne sono diversi che sono in questa condizione. Potrebbero creare problemi anche se non dello stesso peso di quelli creati da Londra. Ma questa è la democrazia europea. Non ho paura di queste divisioni. Ho più paura delle criticità e delle spaccature su temi importanti che abbiamo ogni tanto. Ma anche questo è parte della democrazia europea.